Eccoci con Paola Bolaffio, direttrice di Giornalisti nell'Erba. Che cos'è esattamente Giornalisti nell'Erba? Tantissime cose. È un laboratorio permanente di giornalismo ambientale per 5-29 anni. È un giornale, è formazione, workshop. È una continua evoluzione. È un laboratorio di multimedialità, ovviamente, perché il giornalismo è a 360 gradi. Quindi sperimentiamo, sperimentiamo, impariamo giornalismo e ambiente, scienza. Quanto è importante il giornalismo nel mondo della sostenibilità? Quanto può aiutare la gente a far capire quanto è importante il mondo della sostenibilità? Noi crediamo che il giornalismo sia la cassetta degli attrezzi giusta per poter far arrivare a tutti. È una cassetta degli attrezzi non solo per il giornalista, è una cassetta degli attrezzi utile per il lettore, per il consumatore, per il cittadino. Va saputa usare e quindi quello cerchiamo di insegnare, di sperimentare. Di far capire. Di far capire. Eccoci con Ilaria Romano. Allora, come è nato il termine grinicità? Il termine grinicità è stato inventato. Nel senso che come dire questa cosa in italiano con le parole che avevamo a disposizione forse mancava e quindi i giornalisti nell'erba hanno trovato questa parola grinicità. È nata spontaneamente e è stata accolta con qualche perplessità da chi ci segue online, su Twitter per esempio non l'hanno accolta bene al principio, però invece i linguisti l'hanno apprezzata, cioè hanno rilevato che in effetti, secondo loro nella lingua italiana mancava un tema per definire ciò che è green, la caratteristica di ciò che è green in italiano. Con verde forse non funzionava, verdità forse si riferiva più al mondo delle idee, ma non a una cosa tecnica che può riguardare l'ambito del green. Non a caso poi abbiamo mutuato questa parola dall'inglese per dire più cose del semplice verde. E hanno studiato, i linguisti Francesca Dragotto e Diego Scipioni dell'Università di Roma Torvergata hanno analizzato grinicità, secondo loro nasce con un motivo, e pertiene all'ambito dei lessici tecnici con questa terminazione inicità. Ciò vuol dire che i parlanti hanno sentito che green intanto non è più una parola inglese, ma italiana, tanto da formare un'altra parola che ne deriva, che è grinicità e che è tecnica. Non vi dico di più, quindi vi invito a leggere, non vi dico tutto insomma, vi invito ad andare a leggere l'intervista ai linguisti nelle inchieste di giornalisti nell'erba, che trovate su giornalistinell'erba.it.org e su etalia.net come giornale online che potete sfogliare a piacere vostro. Eccoci con Sergio Ferraris, direttore di Qualenergia. Allora, prima ha parlato dell'importanza nel mondo del giornalismo di fare domande scomode. È così carente nel mondo del giornalismo italiano? Assolutamente sì, la scomodità della domanda in realtà va a toccare interessi costituiti, spesso e volentieri, e da parte di alcune aziende può arrivare a ritirare la pubblicità sui giornali, per cui c'è una pressione forte, una pressione che ormai è entrata nel DNA dei giornalisti. Tutti noi, me compreso, quando scriviamo, diciamo, caspita, posso ledere il fatturato dell'azienda che sto citando, ma c'è un problema ancora più grosso in realtà, che riguarda l'informazione ambientale. Quando parlo d'ambiente, anche se non cito imprese, anche se non cito aziende, eccetera, eccetera, cito comunque un cambiamento che va a ledere degli interessi costituiti. Faccio un esempio, un esempio proprio di quelli più banali, l'efficienza energetica negli edifici, d'accordo, nelle nostre abitazioni. Sto invitando le persone a fare delle cose per le quali risparmieranno energia. Cosa significa? Che acquisteranno meno energia dai fornitori di energia, sostanzialmente, per cui i fatturati di queste aziende caleranno. Non sto facendo niente di trascendentale, sto illustrando delle tecniche, d'accordo, che fanno del bene all'ambiente, fanno del bene al portofoglio, però faranno del male agli azionisti. Stesso discorso se parlo della qualità dell'aria in una città. Allora, se la qualità dell'aria in una città è scadente, cosa succede? Che romperò le scatole alla politica che non prende i provvedimenti giusti, ma romperò le scatole anche all'industria automobilistica, all'intero comparto automobilistico europeo che ha scelto il diesel, anziché magari il GPL o il metano come cosa di transizione. Ogni volta che si scrive di questioni ambientali, in realtà, anche se non si attacca, tra virgolette, direttamente a un'azienda, oggi come oggi si vanno a ledere interessi costituiti. E questo, secondo me, è uno dei problemi centrali. E quanto è importante il giornalismo per far conoscere, appunto, il mondo green? Il giornalismo è molto, ma molto importante, perché è un tramite attraverso il quale possiamo far conoscere delle tecniche, come dicevo, l'efficienza energetica, le rinnovabili, le bioplastiche, la raccolta differenziata e cose di questo tipo che vanno a sensibilizzare direttamente i cittadini sullo stile di vita. Noi oggi viviamo in un momento di transizione, d'accordo? Da un modello sociale e economico probabilmente a un altro. Non sappiamo quando finiranno le fonti fossili, però non sono comunque infinite. Sappiamo che non possiamo stressare così l'ambiente dove viviamo. Pensate che in Cina hanno, per fare il 9% di PIL, a Pechino hanno 900 parti per milioni di polveri sottili nell'area di Pechino e il limite europeo è di 30. Questi sono modelli di sviluppo che sono comunque insostenibili. Non sappiamo quando arriveranno al punto di rottura, però stiamo andando in quella direzione. L'informazione ambientale in questo senso deve fare da tramite, tra delle tecniche, delle tecnologie che sono ingegneristiche, che sono specialistiche e tradurle in maniera coerente ed efficace verso i cittadini affinché possano adottarle. Probabilmente è una delle sfide più grosse che ha l'informazione nel suo complesso, nella storia dell'informazione.